Dai, dai! Potrei impazzire veramente, sì. Che c***o siamo netta? Mi amo! Sì! Chi ha senso? Ce l'ho perso di me! Sì! L'odissea nell'ormone dei nostri ragazzi procede in modo travolgente. Vediamo dove siamo rimasti. Ta-ra-ra-ta-ta-ta-ra-ra-ra Simpatico. Nonostante il tempo, c'è una nuova prospettiva quest'oggi nella villa di Axe on the beach 3. Mamma mia, bellissimo. Mi sono svegliato da Dio. Dai, dai! Io sono tenera, poi mi celego amicizia perché ho da piacere. Ecco là! Colpi di scena! Oh, shit! Giordano, Sasha, Manuel. È arrivato, mi sa, il tuo turno. Andate in spiaggia, sta arrivando una nuova ex. Oh, oh! Bella bionda! Oddio, sì. È tua, vero? Sì, è la mia. 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 Adora, bobbata, abbiamo del cuore la volta. È entratta questa nuova ragazza e quindi vedo vari... vari interessi, no? C'è molta fluidità, di liquidi, mani, situazioni, bocche, secondo me ci sono lingue, cose, è tutto insieme, tutto un mix, è un mix italiano. Ci sarà comunque molto da vedere per i ragazzi, però a me non mi interessa, quindi... Potrei impazzire veramente. Pomeriggio di infusioni. Infusioni? Si dice così? Eh, infusioni! C***o siamo detti! Noi, da che usciamo dalle stanze e vediamo questa tavola italiana. Bello, mi inizio con la F. Mi alimenta proprio un poco che... Solo la sera però. Fackboy is back. Stai tranquillamente? No, prima. Ti do la parola a te, cioè, sono una cosa, so quello, cioè, so io, capito? Se ti mi dici questa mi piace, non ti dico, per viscote, mi dici no, prima di me c'è quella che sta con te, cioè, beh, capito? Toglio di. Cioè, mi dispiace perché... Mi amo! Sì, grazie! Ce l'ho perso di me! Sì! Basta, mi hai rotto con poco qua. Grazie. Grazie. Spera che a vederci è grazie. Sto bene, grazie di tutto. Ci siamo ai Caraibi. Tutto figo, ma l'Italia non la batte nessuno. Sperati auguri alla città. Tanti auguri a te. Buonanotte, ragazzi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.